Dal 19 al 23 agosto Vico nel Lazio si prepara ad ospitale la dodicesima edizione della Sagra della Bruschetta e della Panzanella. Quattro giorni di buona cucina, musica, divertimento, ma soprattutto di solidarietà. Dietro all'iniziativa dedicata ai cittadini e ai turisti del posto si cela un altro fine, ultimare la costruzione del campanile della chiesa di Santa Barbara attraverso il ricavato della manifestazione. È proprio così, un campanile edificato grazie a panzanelle e croste di pane abbrustolito. Il tutto succede in località Colle, dove da anni i residenti organizzano eventi, sagre, momenti di raccolta fondi per vedere e realizzare la struttura che andrà a completare la chiesa di Santa Barbara. Tutto è iniziato negli anni Ottanta, quando la comunità crebbe fino a considerare troppo piccola la vecchia chiesetta. Fu allora che un privato donò alla parrocchia un suo proprio terreno, nei pressi del piccolo burgo, luogo di preghiera. Venne costituito perciò un comitato per edificare la nuova chiesa dalle fondamenta, promuovendo iniziative per raccogliere fondi. È così che dal 2003 inizia la sagra della bruschetta e della panzanella, organizzata dai volontari e che con il suo ricavato finanza i lavori. Il 4 dicembre 2005 la nuova chiesa è stata inaugurata. Quest'anno, la dodicesima edizione della sagra, dal 19 al 23 agosto, nei pressi del piazzale della scuola elementare, finanzerà l'ultima trance di lavori che andranno ad ultimare il campanile. Grazie.